Benvenuti in Villa Stabilini, abbandonata nel 2004, comprata ma mai restrutturata, lasciata lì a se stessa, prima o poi non ci sarà più, ed è per questo che noi Urbex lasciamo un segno. Buona visione. Grazie a tutti. Eccoci l'interno. Grazie. Qui c'è detto di qualcuno. C'è un lettino, c'è un letto pulito, c'è uno che dorme qua. Siamo in casa di qualcuno adesso. Siamo in casa. C'è un messo. Non c'è più niente. Pira di Stabilini. Pira Stabilini. Niente più totale. C'è un ragazze spettacolo. Guardate che spettacolo. non c'è qua. Corо passiamo. Ora passiamo alereno piano. C'è qualcuno? Niente più totale, qui abbiamo il corone del soffitto, è qua uguale, c'è qualcuno? Ora si chiamano su, lo abbiamo, 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 il soffitto che è ancora l'unico. se vi piaciuto il video lasciate like il video all'estabilità e condividete se ti piace che è proprio sotto iscriviti, condividi canali telegram per questo è tutto alla prossima iscriviti, condividi, condividi iscriviti, condividi, condividi